Circa tre settimane fa Saki e Rondo hanno realizzato un featuring chiamato My Brudda e in questo brano celebrano la loro amicizia che dura ormai da anni. Amicizia però sfortunatamente finita di recente perché neanche pochi giorni fa Saki e Rondo si sono tolto il follo a vicenda da Instagram, il che fa capire che fondamentalmente hanno litigato. Inoltre Saki se ne esce anche con una story che, visto tutto il contesto circostante, potrebbe essere riferita a Rondo e se così fosse sarebbe anche abbastanza pesante, piegando che lui ha dato dei consigli a Rondo che però definisce un ratto insignificante senza valori e una causa persa, spiegando inoltre, sempre se questa storia fosse riferita a Rondo, che lui avrebbe parlato male di Saki con dei suoi amici stretti con cui gira e che chiaramente Saki è disposto a chiarire con queste persone faccia a faccia tutte le cose dette. Ma non aggiungo altro, voglio sapere voi cosa ne pensate, se secondo voi questa storia è riferita a Rondo oppure no, noi ci vediamo un prossimo video in linea lo studio.